Benissima, buonasera, a grande richiesta facciamo un repilogo delle lezioni sulle particelle che abbiamo fatto nell'ultimo mese quindi sto usando Imprudence che è il viewer più usato da tutti negli altri viewer le stesse cose si trovano magari in posti leggermente diversi ma comunque i concetti sono uguali allora per le particelle la prima cosa che vi faccio vedere è uno scriptino di particelle questo, quindi particelle, questo qui proietta delle particelle verso l'alto vedremo che con le particelle è possibile fare molte cose quindi la prendo dal mio inventory e lo rezzo e vedete che viene fuori una specie di cono quindi queste sono tante particelle che vengono buttate verso l'alto e come vedete si rimpiccioliscono dunque le particelle sono degli specie di oggettini più o meno finti cioè insomma che vengono, non sono dei prim ad esempio se io faccio, se io posso costruire per terra e posso costruire un cubo ma la particella in realtà, cioè ad esempio questo qui, questa sfera che sta producendo le particelle è un oggetto, è un prim che posso prendere e posso muovere però vedete che mentre lo muovo le particelle vengono emesse dall'oggetto di partenza, oggetto di partenza che può essere anche nascosto si può anche non vedere quindi molto spesso l'oggetto che genera le particelle viene messo trasparente ad esempio quindi si va sulle caratteristiche della texture e gli si dice trasparenza 100% e come vedete l'oggetto non si vede più allora, questo potrebbe essere una specie di fuoco multicolore nel caso, se viene difficile selezionare gli oggetti perché sono trasparenti si può usare CTRL-ALT-T quindi CTRL-ALT-T che vedete che fa vedere tutte le cose che sono trasparenti quindi in particolare ci fa vedere la sferella che quindi possiamo selezionare, modificare e come vedete mi fa vedere anche i miei capelli che sono trasparenti insomma tutto ciò che è trasparente viene fatto vedere anche il vetro qua, vedete tutto trasparente torniamo provvisoriamente senza trasparenza e vediamo che le particelle di solito si vedono meglio tipicamente quando c'è un po' di scura adesso qui c'è la luce, quindi le particelle rendono di meno quindi può essere interessante mettere l'ambiente a mezzanotte allora se mettiamo l'ambiente a mezzanotte la particella fa il suo effetto benissimo allora nella primissima lezione ho fatto vedere almeno tre tipologie di particelle e quindi lo riprendiamo le particelle che vanno verso l'alto sono queste vedete vediamo un altro esempio di particelle, queste che invece come vedete assumono un... cioè vengono emesse verso l'alto come vedete hanno un colore diverso ma vengono diciamo costruite lungo un angolo piano queste vengono chiamate particelle ad angolo e un altro tipo, terzo tipo di particelle sono le particelle che vengono emesse verso l'alto attorno a un cono vedete che ci sono differenze sostanziali fra questi tre tipi di particelle adesso andiamo a investigare bene come sono fatte quindi magari rendiamo di nuovo visibile quindi controllo T la sferella questa la mettiamo senza trasparenza così la vediamo un po' contro l'alto T ah, dobbiamo forse fare conferma contro l'alto T modifica trasparenza 0 no è qui quindi c'è un attimo di di piccola esitazione verrà poi prima o poi trasparente comunque prendiamo una contro l'alto T e prendiamo il nostro oggetto e vediamo un po' come viene prodotto cioè viene prodotto attraverso nel suo contenuto c'è uno script questo script lo apriamo e lo script questo è uno script che viene chiamato generatore della particella ora chiudiamo pure contro l'alto T così vediamo le particelle e impariamo un attimo come controllare questa particella vedete che questa particella adesso cioè queste particelle partono grosse e terminano piccole allora le dimensioni delle particelle vengono allora il fatto che qui c'è tutto un equivalente no ogni paratteristica della particella può essere controllata quindi il colore e le dimensioni cominciamo dal colore dimensione allora il colore viene controllato da queste righe 29 e 31 quindi il colore di partenza che in questo momento è 101 che è una specie di colore di violetto e il colore di arrivo è un giallo cioè rosso, verde e blu quindi rosso più verde fa giallo ora se noi vogliamo cambiare i colori ad esempio vogliamo anziché terminare in giallo terminare in bianco quindi 1, 1, 1 e il bianco mettiamo questa combinazione di colori poi facciamo un ctrl s oppure anche da qua si fa il salva quindi mettiamolo un pochino più piccoletto ce lo mettiamo qui sulla destra e facciamo un salva e vedrete che non appena è salvato il colore finale non sarà più giallo ma è di un altro colore così come il colore e vedete che assume tutte le sfumature fra il colore di partenza e il colore di arrivo possiamo anche cambiare il colore di partenza quindi invece di essere 1, 0, 0 potremmo per esempio farlo rosso rosso vuol dire 1, 0, 0 cioè RGB cioè praticamente rosso, verde e blu mettiamo sulla parte R 1 e salviamo quindi anziché violetto così diventerà in partenza rosso quindi questo è il interessante altre cose che si possono fare è il controllo della scala quindi adesso vedete che questa particella nasce grossa e termina piccola e questo lo si fa controllando la sua scala start size e end size le particelle sono caratterizzate dal fatto di essere visibili a tutte le direzioni quindi sono degli oggetti fondamentalmente bidimensionale hanno due dimensioni quindi altezza e larghezza fondamentalmente non hanno spessore però come vedete noi danno l'illusione dello spessore perché girandoci attorno sembra che abbiano una struttura sferica quindi sembra che siano delle sfere almeno in questi esempi che stiamo facendo delle particelle punto partono vedete qui partono da 80 cm quindi quasi un metro e arrivano fino a 4 cm ora le particelle possono essere lunghe da 4 cm a 4 metri quindi volendo se noi vogliamo fare in modo tale che le particelle non cambino dimensioni quindi rimangono sempre 0,8 possiamo cambiare questa dimensione di arrivo e gli rimettiamo 0,8 e 0,8 e così dovreste vedere in realtà vedete che invece di essere una specie di cono viene una specie di cilindro quindi un altro effetto molto interessante oppure se noi facciamo in modo tale che alla fine si allarghino possiamo mettere anziché 0,8 mettiamo ad esempio 2 2 e otteniamo anche qua vedete che praticamente le particelle si allargano quindi fanno una sorta di cono quindi le particelle iniziali rossa 0,8 e finale larga 2 metri circa se vogliamo fare altri effetti ad esempio partiamo da molto piccola 0,04 0,04 quindi partono molto piccola quindi è puntuale vedete e diventa proprio un conino se invece partiamo con le stesse dimensioni quindi 0,04 e 0,04 otteniamo una specie di adesso qui in realtà non lo fa bene dobbiamo probabilmente metterci negli altri numerelli 0,05 vediamo se funziona dunque 0,1 0,1 purtroppo su open sim c'è qualche allora forse è la partenza ah no vedete già così partendo da 0,04 0,1 si ottiene questo effetto qua magari facciamo 0,1 0,1 quindi dovrebbe venire praticamente più o meno dritto ok e quindi sono particelle che nascono ad una certa vita media quindi durano un tot e poi muoiono e mentre vivono dalla partenza alla morte cambiano possono cambiare colore vedete le parti del rosso arrivano al bianco e possono cambiare come abbiamo visto anche dimensione bene allora poi a lezione abbiamo visto invece un'altra cosa importante adesso poi vedremo qualcuno degli altri parametrilli che abbiamo visto prima ma una cosa importantissima ctrl P vediamo sul grafica qui sulle opzioni personalizzate vedete che già abbiamo una cosa importantissima che è il conteggio massimo particelle questo conteggio può essere abbassato vedete che se lo abbasso al massimo ci possono essere 8192 se io dico che al massimo voglio avere 2000 particelle vedete che diminuisce la quantità di particelle visibili e se lo metto a zero spariscono tutte le particelle quindi questo è un modo anche per difendersi dagli attacchi di particelle o per ridurre il lag che è generato dalle particelle quindi mettiamo al massimo e poi ricordatevi facciamo applica un altro adesso lo sta rigenerando un'altra cosa che spesso può controllare è andare nel rendering e controllare il fatto che renda le particelle oppure no quindi se si clicca qua questo è l'advanced l'advanced per farlo comparire dovete fare ctrl alt d ctrl alt d compare il menu advanced e a questo punto sul rendering types potete mettere una x qua e far sparire le particelle e questo effetto vedete che anche se ho messo 8192 però ho disabilitato le particelle non le vedo in questi casi per far riapparire le particelle occorre rimettere la x qua oppure anche premere ctrl alt shift uguale che però sulle tastiere italiane non è facile ok quindi abbiamo esplorato praticamente le diciamo le cose principali che sono il fatto che le particelle cambiano colore cambiano dimensione rimaniamo ancora un attimino su queste particelle qua andiamo nel nostro script e proviamo a vedere se impariamo qualche altro ctrl alt t così le vediamo benino allora vedete che la colonna di queste particelle è abbastanza alta perché dura la lunghezza la durata media della vita di una particella quindi se noi vogliamo cambiare la durata media è sufficiente che qui abbiamo vediamo un po' se lo troviamo dunque dovrebbe esserci ecco particella e età della particella adesso durano 3 secondi quindi se io metto una durata della particella più lunga tipo 5 secondi vedrete che la colonna si alzerà perché le particelle praticamente diventano più longeve e quindi durano di più quindi paradossalmente posso fare una colonna molto alta perché qui posso mi sembra che il massimo sia 30 30 secondi comunque così lunghe diventa anche difficile a gestirle se mettete la partage a 30 la colonnina vedete che cambierà il colore molto lentamente perché la particella vedete che rimane rossa veramente a lungo e poi man mano nel corso della sua vita si tende poi a cambiare il colore se vedete che man mano che mi allontano non si vedono le particelle perché man mano che mi allontano non vedo gli oggetti a meno che non non faccia ctrl p e qui gli metto proviamo a vedere se funziona mettiamo 512 metri applica e vediamo se questo aiuta no quindi le particelle in realtà si vedono quando si è abbastanza vicini quindi per vedere tutta l'evoluzione di questa particella bisogna proprio volarci attorno per vedere fino a che alla fine vedete diventa bianca e poi sparisce quindi la particella è abbastanza lunga allora l'età della particella l'abbiamo vista possiamo anche farla durare prima durava 3 secondi possiamo farla durare 0,2 secondi quindi sono particelle molto ecco vedete che fanno degli effetti molto quindi corti cioè la vita è breve addirittura se gli metto una vita quasi nulla 0,0,1 dovrebbero avere praticamente dei lampi vedete dei lampi e quindi si vedono poco ma noi torniamo a metterci una vita tipo un secondo così vedete che durano questa è la distanza che fanno in un secondo allora altre cose che possiamo vedere delle particelle quindi le particelle abbiamo visto che hanno una velocità con cui vengono sparate che è 1 se io sparo la particella con una velocità diversa in teoria voglio farvi un po' vedere vectore omega proviamo invece che 1 gli mettiamo 2 come velocità gli sparo e vedete che vengono sparate più lontano ok perché è proprio la velocità dello sparo della particella se io gli metto la particella max speed 0 la particella in realtà rimane abbastanza fissa e quindi ah c'è anche la min speed quindi min speed e max speed quindi 3 0 e 1 quindi se gli mettiamo 0 0 nelle velocità la particella rimane ferma di fatto nel punto in cui viene fatta apparire quindi se le velocità sono uguali avranno sempre la stessa tipo di aspetto quindi ad esempio se gli metto 1 e 1 tutte le particelle avranno la stessa struttura vedete che vanno esattamente tutte uguali qui il fatto di mettere la velocità minima e la velocità massima diversa permette di avere una particella un po' più regolare quindi se gli metto tra 0 e 1 le particelle in maniera casuale avranno un comportamento tipo fiamma quindi qui si può generare una fiamma poi un'altra caratteristica importante sono il numero di particelle emesse quindi vedete che se ne mette 200 ogni volta che viene emessa un insieme di particelle vengono emesse 200 se noi invece di 200 mettiamo 2 vedrete che vengono emesse molte poche particelle vedete vengono emesse un paio di particelle e quindi si vede un effetto meno interessante se ne mettiamo 20 ne otteniamo comunque abbastanza diciamo si va al risparmio e così via insomma si fanno tutti gli effetti diciamo che visto che il conteggio totale di particelle che ci possono essere 8192 non si dovrebbe mettere dei valori molto alti comunque 20 50 insomma dovrebbero dare già dei risultati accettabili a seconda di quello che volete fare questi sono 50 magari rimettiamo la start size ecco proviamo a mettere delle start size diverse dall'ovvio quindi 1 per 0,1 quindi sono abbastanza larghe ecco vedete qui abbiamo le particelle che partono larghe e strette cioè e poco e basse insomma e fanno questo effetto anche tipo mare che non è male e viceversa si può fare il contrario cioè particelle che partono con le dimensioni rovesciate quindi partono magari a 0,04 ma ad esempio il massimo che è 4 e poi si restringono a 0,04 0,04 e quindi queste sono particelle che invece partono diciamo tutte verticali come vedete il fatto che visto che sono sempre spate verso l'alto sono tutte verticali fanno praticamente un effetto tipo laser a questo punto volendo vi potrete chiedere come fare per spostare il laser quindi contro l'alto T questo qui è l'oggetto che lo genera quindi se io adesso piego l'oggetto lo spingo no dunque sì se io giro l'oggetto vedete che la posso ottenere degli altri effetti nel senso che vengono aggiornate delle barre e queste barre insomma sono verticali e quindi vengono un po' spinte in quella direzione perché hanno una certa velocità che nel caso in cui erano alte andava sull'alto e quindi diventavano in quel modo lì e invece qua hanno questo effetto insomma possiamo quindi ottenere vari effetti lavorando su questi valori poi abbiamo ancora altre cose su cui possiamo lavorare ad esempio ecco questa è l'accelerazione di gravità quindi se noi vogliamo fare in modo tale che torniamo e facciamo facciamo in modo tale che vengono proiettate verso l'alto ecco vedete la proiettiamo verso l'alto più o meno verso l'alto e magari gli mettiamo delle dimensioni un po' più standard quindi ad esempio 0,1 per 0,1 così dovrebbero venire delle cose un pochino più normali dal punto di vista delle particelle ok allora vedete che le particelle vengono proiettate lungo l'asse dell'oggetto che è quello e lo z lo z sarebbe l'asse blu per vederlo meglio si può dirgli di usare la modalità di visualizzazione locale e in questo caso lui fa vedere esattamente vedete l'asse dell'oggetto e vedete che le particelle vengono generate lungo la direzione blu quindi se io modifico l'angolazione del mio oggetto l'asse blu si sposta e quindi la particella verrà sparata a partire da quella lungo quella direzione o mettiamola così dunque dicevamo possiamo anche agire sull'accelerazione l'accelerazione può essere anche usata per dare una gravità quindi qui si può dare anziché push 00 possiamo dare ad esempio push 00 0 meno 0.1 che vuol dire che la z si abbassa quindi vuol dire che le particelle sono soggette a una gravità infatti vedete che rispetto alla freccia si stanno abbassando un pochino per vederle per vedere la gravità avere un effetto un po' più significativo aumentiamo il numerello e vedete che le particelle tendono a cadere quindi a ottenere gli effetti di fuochi d'artificio se vogliamo vederlo più lungo abbiamo detto che possiamo allungare la vita 10 secondi quindi vedremo queste particelle che si allungano e che quindi fanno questo effetto se non vogliamo che cadano in maniera irregolare ricordiamo che possiamo cambiare la mean speed e se qui gli mettiamo 1 tutte le particelle genereranno la stessa traiettoria perché avranno tutte la stessa velocità ok questo è interessante direi quindi volendo possiamo anche fare in modo tale che le particelle si muovino non lungo la z ma vengono spinte in altre direzioni e insomma qui lavoriamo su tutti questi fattori un'altra cosa vedete che rispetto al centro dell'oggetto le particelle nascono un pochino staccate la distanza dal centro da cui vengono generate è il radius il radius qui è credo che sia dunque dovrebbe essere verso l'inizio radius punto 35 quindi 35 cm dal centro se invece di punto 35 qui metto 0 le particelle nascono proprio dal centro dell'oggetto vedete se invece qui gli metto un radius più lungo tipo 2 metri le particelle vengono generate a partire da 2 metri vedete lungo l'asse sempre z qui è evidente che sto usando l'asse z blu dell'oggetto quindi abbiamo visto il raggio e poi abbiamo visto un po' di altre particolarità adesso ne ho saltate alcune ma insomma ne abbiamo visto parecchie vediamo ora invece gli effetti angolari gli effetti angolari quindi prendiamo questo script questo script che vedete che fa un angolo allora l'angolo viene ottenuto semplicemente usando il psis search pattern angle cioè praticamente il pattern ad angolo mentre invece prima avevamo usato sì probabilmente anche un angolo però gli avevamo messo un begin angle e un end angle a 0 infatti se qui noi mettiamo gli angoli da 0 a 0 dovremmo ottenere più o meno lo stesso effetto di prima cioè essere nella situazione precedente vedete invece nel momento in cui quindi le particelle nascono verso la direzione z e evolvono lì se invece noi mettiamo una fine dell'angolo anzi adesso facciamo qui lo stesso mestiere che abbiamo fatto prima e le particelle le facciamo tutte uguali quindi 0 1 0 1 0 1 0 1 ok quindi vedete che adesso ah è con syntax error cosa ho sbagliato allora vedete che ah si perché l'end angle qui 0 ok adesso vedete che le particelle vengono sparate tutte verso l'alto e le facciamo anche un pochino più lunghe ok così le vediamo vedete che si allunga eccole lì allora se cambiamo l'angolo quindi l'angolo invece che 0 gli mettiamo ad esempio questo è un angolo in radiante quindi bisogna mettere tipo pi greca o pi greca mezzi pi greca a 180 gradi se noi mettiamo pi che è pi greca tutto maescolo le particelle vengono sparate proprio a 180 gradi che vuol dire che vengono sparate tutte diciamo in un semipiano vedete nel semipiano se no altrimenti se io metto da 0 pi greca a quarti vengono sparate lungo vedete tipo radar lungo quella quella cosa e se io dico che l'angolo iniziale in realtà è pi terzi ad esempio le particelle vengono sparate solo lungo vedete lungo due direzioni qui da pi terzi a pi quarti se vi viene male usare i radianti potete anche fare la conversione tra angoli e radianti e questo lo si ottiene ad esempio se voi volete usare 30 per usare la volete fare da 30 gradi dovete moltiplicare 30 per deg to rad che è una costante che trasforma i gradi in radianti qui se vogliamo fare da 30 gradi a 60 gradi facciamo deg to rad e quindi così possiamo fare vedete che sono da 30 che è questo fino a 60 gradi e abbiamo espresso le particelle in un formato diciamo più umano qui analogamente torniamo a un altro esempio di particelle che vengono fatte a cono abbiamo detto qui la differenza rispetto a prima è sempre simile nel senso che nello script c'è scritto psis search pattern angle cone e anche qui cosa facciamo invece che tra 0 e p quarti mettiamo ad esempio tra 0 e p oppure se no facciamo proprio una cosa tipo tra p quarti meno 0.01 a p quarti p quarti sarebbe 45 gradi quindi facciamo vediamo se riusciamo a fare un cono proprio solo vedete proprio il cono la superficie eventualmente se vogliamo vederlo un pochino meglio possiamo anche aumentare il numero di particelle facciamo mille e così dovrebbero essere emesse un pochino di più in realtà un difetto di open sim è che purtroppo il numero di particelle non è così facilmente controllabile fossimo su second life questo effetto sarebbe stato più realistico quindi ci accontentiamo degli effetti diciamo tipo 200 500 particelle ok quindi così abbiamo ecco qui tra l'altro se aggiungiamo anche la forza di gravità possiamo ottenere anche qui degli effetti interessanti e quindi effetto di gravità gli mettiamo push quindi gli possiamo mettere meno 1 quindi le particelle vedete che vengono emesse e però tendono a cadere quindi se io nella part edge gli metto tipo 3 secondi queste particelle diciamo durano abbastanza da fare un effetto fontana soprattutto se gli cambio colore magari mettiamo un attimino verso l'alto quindi è come se fosse spruzzata nell'acqua e magari l'acqua gli mettiamo starting color per esempio bianco 1 1 1 e in color gli mettiamo blu per esempio così otteniamo praticamente questi effetti che può essere diciamo una fontana poi se gli mettiamo anche una una velocità adesso qui sono proprio getti verso l'alto però se gli mettiamo da 2 a 1 dovremmo avere una fontana per esempio dove è un po' più irregolare quindi più realistica ok quindi diciamo che riassumendo abbiamo visto le caratteristiche delle particelle più elementari che sono la possibilità di definire alcune tipologie di particelle che sono quelle che abbiamo visto prima quindi che possono essere angolo-cona possono essere angolo poi in realtà vedremo poi dopo che ce ne sono ancora alcune altre vi ho visto come fare mettere le particelle a una certa distanza abbiamo visto l'angolo di emissione quando sono dei coni abbiamo visto come si si controlla la l'età della particella la velocità con cui vengono emesse le particelle abbiamo visto come dargli la gravità per andare verso il basso come controllare il colore poi qui in alcuni casi può essere interessante controllare anche la trasparenza ma non è facilissimo e poi vedete qui c'è anche un piccolo effetto interessante l'omega l'omega definisce la rotazione quindi se io dico 1 sull'asse z l'effetto finale dovrebbe essere che le particelle vengono emesse a rotazione che però qui si vede poco forse bisogna mettere un po' più piccolo tipo 0,5 e qui si si vede poco la rotazione ah no forse si si intuisce un po' magari lo si vede un po' meglio qua in questo script proviamo a metterci rotazione mettiamolo un pochino in alto vedete che mette tipo radar se noi adesso gli cambiamo la rotazione questo omega gli mettiamo 0,5 vediamo un po' se riusciamo a osservare l'effetto di rotazione ecco dire di sì vedete che l'oggetto cioè la sorgente si ruota con una certa velocità adesso è una rotazione lenta diciamo vedete che gira l'oggetto se noi gli mettiamo un al omega anziché 0,5 gli mettiamo 2 la velocità angolare dovrebbe ruotare più velocemente in teoria ecco infatti si ottiene un effetto diciamo anche questo interessante ok allora diciamo per questo primo riepilogo è tutto ci vediamo al secondo riepilogo riepilogo